Sì, sì, te lo tengo io, vai tranquillo. Allora, è a comando vocale, non tieni pure la zacca. Tanto lo so, guadagnati questi 50 euro. Prego, piede qua. Uno step, eh. Andiamo ragazzo, su. Voilà. Il comando è vocale, quindi voi non resta che dire via. E in un attimo parte il nostro step multimediale interattivo, dove voi dimagrite mentre vi divertite e la fatica la fanno sempre e solo loro. Ho visto che ci hai già preso gusto, eh. Ok, stop qua un attimo. Questo è un piccolo esempio di quello che potete fare voi a casa vostra con la Manico Sport. Ma tu che sei un uomo, un vero macho man italiano, ti facciamo vedere il segreto di Yuri Keki. Signori e signori, sì, qua lo diciamo. Lui ha usato le parallele della Manico Sport. È diventato il campione che tutti conosciamo grazie alle nostre parallele. Guarda che roba. Non c'è trucco, non c'è inganno. È pronto in un attimo nel salotto di casa vostra. Quindi a te non resta ancora che salire. Lei è stata graziata per le scarpe, eh. Ma io devo dire che sono in tinta, cioè sono in tinta col vostro... Molto in tinta, tranquillo, guardami, 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 guardami. Girati in qua, grazie, prego. Ma vieni avanti, 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 avanti. Non gli fai male, se te non assumai avanti, avanti, avanti. Ecco, mi raccomando, eh. Avanti, 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 non gli fai male. Stai lì, perfetto. Mani dritte qua. Ecco, ti voglio in forma. Rilassati, rilassati perché la fatica la fanno loro. Via. Pop là. Signore e signori, spalle, bicipiti, tricipiti, tutti in un unico esercizio. Ma soprattutto negli slanci più profondi abbiamo il massimo lavoro. Abbiamo qualche problema tecnico? No, c'è, ce la fa. Ce la fa, il nostro Enzo ha superato la seconda prova. Stop. Che lo devo usare ancora, questo qua. Vi ricordo che Manico Sport clona giornalmente milioni di nostri sterili puffi blu. Ma noi li usate, ce ne rimandate a casa e noi ve ne rimandiamo ogni giorno uno nuovo. Come anche il nostro vibromassaggiatore. Quello che vi vado a mostrare adesso è veramente sensazionale. Ti dirò questo qua perché è una cosa che le donne ormai ci hanno veramente vuotati i magazzini. Perché è vero, due milioni di pezzi nel deserto dei Gobi. Questo lo faccio io che è meglio. Allora, il vibromassaggiatore, due fasce elastiche, due velocità. Ve lo posizionate bene sotto le scapole, bene sul gluteo. Attenzione qua. E a comando vocale, vai con la velocità uno. Signori e signori, vi rilassate a casa vostra. Ma il bello viene con la velocità due. Molto più drenante, molto più insistente. Signori e signori, dreniamo in profondità. E stop qua. Il vibromassaggiatore della Manico Sport. Anche per le cosce e i seni, nella tranquillità di casa vostra. Senza andare in palestra, vai. Velocità uno, signori e signori. Arrivate a casa, cinque minuti al giorno, vi garantiamo risultati eccezionali. E vai con la velocità due. Sì, per le signore, le più ardille. Eh, 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 Manico Sport. Abbiamo qualche problema di software che stiamo cercando di risolvere.